La braidese Emma Bonino, ex commissario europeo per gli aiuti umanitari e per la tutela dei consumatori, ex ministro del commercio internazionale e delle politiche europee ed ex vicepresidente del Senato della Repubblica, è stata nominata con una scelta di alto profilo ministro degli esteri dall'attuale presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta. La trentasettesima edizione di Vinum avrà luogo nel lungo weekend dal 27 aprile al 1 maggio ed è promossa dal Comune di Alba e dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe Eroero, organizzata dall'ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Cuore della Carmes è la grande enoteca di Langhe Eroero, l'appuntamento è con le nuove annate delle denominazioni, oltre 130 i produttori proposti dai sommelier presso la grande enoteca e oltre 400 le etichette in degustazione. La redazione di Grandanet vuole informare ai suoi gentili lettori che i problemi tecnici che hanno causato l'oscuramento del portale nei giorni scorsi sono stati risolti. Ci scusiamo per gli eventuali disagi arrecati dalla vicenda. Nel pomeriggio di venerdì 26 aprile, per causa in fase di accertamento, la Fiat 16 con a bordo due persone, Giovanni Facelli e Diana Diserio, marito e moglie rispettivamente di 82 ed 81 anni, è uscita di strada nei pressi della rotonda di eccesso a Ceva, che si trova in zona torretta, per poi sfondare il guardrail e schiantarsi contro l'albero di una casa che si trova su un dislivello. I due occupanti della vettura sono stati estratti dalle lamiere grazie all'immediato intervento sul posto dei vigili del fuoco di Mondovì. L'elisoccorso del 118 ha poi provveduto a trasportarli all'ospedale Santa Croce di Cuneo, luogo che hanno raggiunto in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Ceva per i rilievi del caso. A causa delle avverse condizioni meteo, sono state interrotte le ricerche di Germano Occelli, il 71enne scomparso da casa alla cui vettura era stata ritrovata in un'ansa del fiume Stura, tra Rocca Sparvera ed il Ponte del Sale. Le ricerche, effettuate anche per mezzo di un elicottero, dovrebbero riprendere una volta tornato il bel tempo. La classifica femminile della seconda tappa del Giro d'Italia in handbike è stata vinta dall'asleta di Albareto Torre Francesca Fenocchio della società Sportabili Alba, il primo a tagliare il traguardo della manifestazione sportiva che si è svolta a Cuneo sabato 27 aprile è stato Vittorio Podestà. Con Podestà e con il mintico Alex Zanardi, Francesca Fenocchio ha conseguito nel 2012 la medaglia d'argento nella categoria staffetta di handbike alle Paralimpiadi di Londra.